Sia lode e gloria a te, Signore mio Dio. È incredibile come dei soggetti che sarebbero dovuti finire davanti a un tribunale per dei crimini contro l'umanità vengano eletti o rieletti con delle funzioni molto importanti. Questa Europa non è più cristiana. Questa Europa appartiene a Satana e ai suoi adepti. Questa Europa tra un po' sarà invasa da soggetti che hanno questo credo sanguinario e che vogliono imporre la loro religione. È accaduto un fatto incredibile in quanto un'eurodeputata romena è stata cacciata dall'aula e solo per aver rappresentato il suo amore per i bambini e per le nuove nascite. La rappresentante del partito di ultradestra romeno SOS Romania, Diana Jovanovic Sousaka, ha cominciato a protestare quando Valery Heyer, presidente del gruppo dei liberali, ha chiesto ad Ursula von der Leyen di fare tutto il possibile per includere il diritto all'aborto nella carta fondamentale. Incredibile. Vogliono trasformare i ventri delle donne in cimiteri. Eppure chiedono il sostegno a questo strano soggetto. Ma questa donna ha protestato mostrando le due icone sacre al grido di libertà di parola e al grido di noi crediamo in Dio. Allora i nostri cari democratici satanisti hanno espulso dall'aula del Parlamento Europeo. Questa donna, la rappresentante del partito di ultradestra romeno SOS Romania, Diana Jovanovic Sousaka, ha protestato indossando allora una moseruola. E la terza volta che interrompe, ha detto la presidente Roberta Mezzola. Chiedo che venga portata fuori dall'aula. Penso che lei abbia parlato abbastanza. Incredibile. Parlare a favore della vita è diventato un delitto. L'euro parlamentare ha cominciato a protestare quando questa Ayer ha chiesto ad Ursula von der Leyen di fare tutto il possibile per includere il diritto all'aborto. Esaminate bene la parola diritto all'aborto con tutto quello che ne comporta ed inserire questa scelta scellerata nei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Ma la grande patriota Diana ha continuato a irrompere anche mentre gli usceri cercavano di indirizzarla verso la porta. E le hanno detto, le chiedo anche di non urlare contro i commessi. Penso che lei abbia parlato abbastanza. Questo ha rimproverato alla grande patriota la pseudo presidente Mezzola. Poco prima, durante il discorso della candidata per il secondo mandato, Ursula von der Leyen, quella famosa dei contratti su WhatsApp che dovrebbe stare davanti a una corte internazionale e che invece è stata promossa, ha dunque fatto cacciare via Diana Jovanovic, che si era presentata una seconda volta con una museruola davanti alla bocca. Da fervente cristiana aveva anche proposto di portare un sacerdote cristiano per benedire e per purificare il Parlamento europeo. Ma servirà ben poco un sacerdote perché ci vuole un gruppo di esorcisti per esorcizzare quel posto e per fare in modo che le fiamme del fuoco dell'inferno possano colpire tutti i demoni che si nascondono dietro il Parlamento europeo nel nome potente e glorioso di Gesù. Mi chiedo come sia possibile che dei cosiddetti democratici abbiano rieletto alla guida della Commissione con 401 voti un soggetto che voleva abolire il nome di Giuseppe e di Maria perché non inclusivo, abolire le feste di Natale perché non inclusivo, farci mangiare gli insetti, imporre le prescrizioni green a tutta l'Europa. Non solo è che dire poi dei contratti nascosti su WhatsApp. Questa è la finta Europa e io credo che la destra adesso in Italia dovrebbe svegliarsi, imporre la propria volontà e staccarsi completamente dai demoni perché chi è complice dei demoni ne seguirà anche la sua triste sorte cioè le fiamme del fuoco dell'inferno. L'Italia deve trovare la forza per uscire oramai dall'Europa perché l'Europa vuole la fine, la condanna per l'Italia. Una certa signora, chiamiamola così, Ayer, una grande abortista, stava chiedendo alla Presidente designata della Commissione europea, stava chiedendo alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Führer, di inserire l'aborto nella Carta dei diritti europei e dice le chiedo di fare tutto il possibile per includere l'aborto nella Carta dei diritti fondamentali. Stiamo parlando del Parlamento, della Commissione europea dove una persona chiede di inserire nella Costituzione l'aborto, cioè il diritto a non vivere. A questo punto la bravissima cattolica cristiana Jovanovic Sosoaka ha manifestato il suo giusto dissenso alzandosi in piedi tra qualche urlo dei soliti abortisti schiavi e servi di guerra fondai. La stessa ha indossato una museruola e mostrando alcune sacre icone ha iniziato poi a gridare, protestando contro la proposta, dicendo noi crediamo in Dio, noi crediamo in Dio. L'eurodeputata del gruppo SOS Romania infatti ha chiesto libertà di parola, ha detto io ho il diritto di parlare, ma la schiava dei cosiddetti, ma la solita schiava del sistema, amica di guerra fondai, amica di abortisti, amica della distruzione dell'Italia, ha detto freddamente penso che lei abbia parlato abbastanza e ha invocato più volte gli usceri affinché accompagnassero fuori dall'aula questa grande donna. Mezzola poi ha così ridato la parola all'abortista. Cari fratelli, noi dobbiamo uscire da questa Europa, dobbiamo uscire da questa Europa, non ci sta portando nulla di bene. Vogliono riempirci di immigrazione clandestina, togliere agli agricoltori la possibilità di coltivare la terra, farci mangiare insetti mentre loro mangiano caviale e champagne. Toglierci la possibilità dei sistemi di trasporto che usiamo già da tempo, forzandoci a comprare delle macchine elettriche che bruciano ogni giorno, mentre loro possono girare tranquillamente con delle macchine super a benzina, 5.000 di cilindrata. Noi dobbiamo uscire da questa Europa, dobbiamo uscire da questa Europa perché non è più un'Europa cristiana. Noi crediamo in Gesù Cristo e vogliamo che nella Costituzione venga inserito Gesù Cristo, non l'aborto. Vieni, Signore, vieni e porta la Tua giustizia. Nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen. Chiediamo e preghiamo il nome potente di Gesù affinché venga presto il suo regno e affinché ci liberi da questi demoni che sono asserviti a Satana e ai suoi adepti. Nel nome potente e glorioso di Gesù. Amen. Vediamo in Europa che c'è un tentativo di involuzione sui diritti fondamentali e quindi le chiedo di fare tutto il possibile per iscrivere il diritto all'aborto alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali. Seconda priorità. L'economia. È la terza volta che lo fate. Chiedo che il parlamentare in questione venga rimosso dalla dalla sala. Let me make it, let me repeat. Ripeto, chiedo che la persona in questione venga rimossa immediatamente dalla sala. Applausi. Do I have to say it again? Devo ripeterlo? Vi chiederei, le chiederei cortesemente anche di non gridare nei confronti degli usceri. quanti colleghi devono venire per escoltarla e per farla uscire dalla sala? Penso che lei abbia parlato a sufficienza. Onorevole Aie. Prego, puoi continuare. Madame Aie, tu puoi continuare. Prego, onorevole Aie. Grazie, presidente. Prego, ciò che tu nel centro. Grazie a tutti. 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 You kill people. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.